L'Assemblea ha parlato. La lunione di giovedì sera ha tracciato le linee d'azione del già recalcio. I soci del Presidente hanno già scritto ed inoltrato una letterina formale all'ufficio del Sindaco, incrociato peraltro nella serata di ieri. La convocazione di un incontro della società con l'amministrazione comunale è quindi ufficiale. Le parti cercheranno di raggiungere un'intesa per rendere alcuni settori dello stadio agibili, per un'eccellenza che possa essere vissuta dai tifosi con un paio di metri di vicinanza in più rispetto al recente passato. Mr. Romeo è stato confermato insieme a tutto il suo staff come prevedibile. Importante anche il rinnovo per un altro anno di villani, esterno di grande personalità ed esperienza. Impossibile fare a meno di lui sulla soglia della nuova categoria. A poco a poco si parlerà anche con gli altri calciatori e la proposta del racconto delle esigenze di tutti. È stato prestabilito infatti un piccolo ma indispensabile aumento di stipendio per i protagonisti della vittoria del campionato. I capitoli di questa saga si dispiegheranno dinanzi a noi giorno dopo giorno, intanto questo è sicuramente un buon inizio.